Si chiama il ballo degli innamorati ed era permesso solo ai fidanzati ufficialmente perché era un ballo veloce, i ragazzi si stringevano e si toccavano solo chi era già promesso al matrimonio poteva fare questo ballo io dico, lo facevano anche veloce, insomma, e si stringevano per vedere, insomma, sotto a qual materiale c'è un po' di sostanza perché non è che si vede un granché, a qualcuno qualcosa si vede ora è tutto imbottito Siamo pronti? Il ballo degli innamorati Siamo pronti? 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 Secondo me si spoglie piano perché quando un anziano non è che può fare tante cose veloci però noterete che a metà del ballo e alla fine oltre alla bravura c'era anche un buon residuo di forza a voi Un cuon gia Un cuon gia Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.